Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale GiappolioTV. Oggi un nuovo video sul confronto Italia e Giappone. Sono passati già 5 anni da quando sono tornato in Giappone. Quindi per me tante cose che erano ormai normali quando vivevo in Italia. Appena arrivato qui non lo erano più perché avevo dimenticato come era viverci. In questo video io vi parlerò di alcune cose che mi mancano del Giappone in Italia. E Viviana vi parlerà di alcune cose che le mancano dell'Italia quando siamo in Giappone. Ovviamente diamo per scontato la mancanza degli affetti. In questo video parleremo solo di cose materiali. Ok, iniziamo. Allora inizio io. Cambiare i bimbi in giro e dei bagni. Prima non avevamo bimbi e non facevamo molto caso a questo. Adesso che siamo tornati in Italia in tre abbiamo notato che è complicato stare molte ore fuori con la bimba. Perché non è facile trovare dei posti dove poterla cambiare. Anche per gli adulti non è sempre facile trovare un bagno. E trovarlo anche pelito. Soprattutto io spesso ho mal di pancia. In Giappone posso trovare facilmente dei bagni. Qui è più complicato. Sono tristi. La prima cosa che faccio in Italia quando devo stare in giro molte ore è guardare dove posso trovare dei bagni. Adesso al consacro guardo di più. Perché se il bagno è sporco può essere pericoloso cambiarla. Anche se pagamento per favore governo italiano mettete un bagno pelito. Proprio non posso stare senza per vivere bene. Ho bisogno un bagno pelito. 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 Treno a lunga percorrenza economico. Se è vero che per tornare in Italia il volo aereo ha costato tantissimo, è anche vero che tutti i treni che abbiamo usato per spostarci erano molto economici. Avendo prenotato circa un mesetto prima, tratte di 500-600 km abbiamo pagato solo in due una trentina di euro. Anche i posti erano in prima classe ed abbiamo anche scelto quello dove c'era il tavolino, quindi quelli più comodi. In Giappone un treno ad alta velocità per la stessa tratta costerebbe in circa 200 euro per due persone, forse anche di più. In posti standard. Sì, è vero che i treni in Giappone sono difficilmente in ritardo, ma anche i costi sono nettamente superiori. In più, anche le ultime volte che abbiamo viaggiato in Italia non è che fossero in ritardo i treni, magari è capitato una decina di minuti che per noi italiani non è neanche in ritardo ormai. Magari avere questi prezzi in Giappone, infatti noi abbiamo tanti viaggi in sospeso come per esempio andare in Hokkaido al nord oppure andare nelle isole al sud. Ma appunto essendo così costosi i biglietti ancora non siamo riusciti ad andarci. La seconda è cenare presto. Anche questo è un po' legato a Sakura. Diciamo che in Giappone mangiamo sia il pranzo che la cena ad un orario diverso rispetto all'Italia. Molto prima, ma finché non avevamo bimbi, non c'era problema nel cenare, anche ad orari come le 7-8 di sera quando eravamo in Italia. Solitamente Sakura in Giappone dormiva massimo alle 7 e mezza, quindi iniziare a cenare alle 7 adesso per noi è un problema. Perché Sakura non dorme ovunque e poi piange, quindi casino. Sicuramente non tutti i ristoranti in Italia iniziano il servizio della cena alle 7, ma la maggior parte non lo fa prima di quell'ora circa. Invece in Giappone se vogliamo cenare alle 17 o alle 18 non è strano. Anche c'è già tanta gente che ha già prenotato o che già mangia. Quando siamo in giro per noi è molto comodo così. Invece in Italia per noi è meglio pranzare tardi e mangiare solo una piccola cosa per cena e tornare in hotel. Se invece dobbiamo cenare con gli amici è molto difficile in Italia, sempre per noi. Sappiamo non è per tutti così. Bar ovunque aprono la mattina presto. Solo con questa frase qualsiasi italiano ha già capito cosa intendo. Per molti italiani il caffè è sacro la mattina. Anche in Giappone bevono il caffè la mattina, però loro sono abituati a quello americano, quindi anche avere la bottiglietta di caffè e prenderla alla macchinetta va bene ugualmente. Non devono bere l'espresso al bar. In alcune zone più popolate si possono trovare gli Starbucks che aprono anche alle 7 di mattina, però non sono ovunque. Le caffetterie in genere aprono a metà mattinata. È molto più comune invece trovare dei locali di gyudo no soba aperti alle 5-6 di mattina rispetto che una caffetteria. Quindi per questo bevo sempre il caffè a casa perché so che fuori sarà difficile trovarlo. Il terzo è Ofuro. Ofuro è la zona del bagno dove si trova la vasca. In Giappone è una stanza a parte rispetto al toilet, ha la porta ermetica e quindi anche se fuoriesce l'acqua non c'è nessun problema. È molto comodo per me perché è come se fosse una doccia grande. Con vicino alla vasca non devi preoccuparti dell'acqua, se è sporchi eccetera. La vasca in Italia non so come usarla. Se c'è almeno la tenda sì, ma senza è proprio difficile per me. Non posso alzarmi. Anche per il lavare Sakura è molto comodo l'ofuro perché possiamo fare la vasca insieme. Lei imbraccia a me e Viviana che la lava con il sapone. Se volete vedere come lo abbiamo mostrato in questo video, lo lasciamo in descrizione. Non togliere le scarpe a casa. Di questo abbiamo già parlato in altri video. Un po' tutti lo sappiamo. In Giappone non si entra con le scarpe in casa. Nessuno lo fa, neanche chi viene a fare qualche lavoro. Se da una parte è molto comodo e soprattutto molto igienico, altre volte può diventare veramente scocciante. Mi capita spesso, molto spesso, di dimenticare delle cose in casa prima di uscire e quindi di dover rientrare anche solo 3 secondi e poi riuscire di casa. Ed è inconcepibile che lo si faccia con le scarpe. Quindi anche se ho delle scarpe molto scomode da allacciare o slacciare oppure quando ero incinta di 9 mesi col pancione, comunque dovevo toglierle. E voi direte, ma a casa tua fai quello che ti pare, no? No. Perché Takashi è giapponese e per lui è inconcepibile che si entri con le scarpe in casa. Quindi se siamo insieme e prima di uscire dimentico qualcosa, come ad esempio il telefono, entrerà Takashi che si toglierà le scarpe e mi prenderà il telefono. In Italia invece non avrei questo problema, ovviamente. C'è da dire però che a me piace che vengono tolte le scarpe prima di entrare in casa, solo che alcune volte un po' di flessibilità sarebbe la perfezione. Il quarto è Kotatsu. In inverno la cosa che mi manca sempre quando non sono in Giappone è il Kotatsu. Kotatsu è un tavolo con una specie di stufetta al di sotto ed è un piumoncino che copre tutto lateralmente. Esistono anche quelli più alti con le sedie, ma il tradizionale è basso e ci si siede a terra. Il pavimento non è freddo, poiché solitamente viene messa nella stanza che si chiama Washitsu, ovvero quella con il tatami. L'inverno ci sediamo lì con le gambe dentro, calde calde, e mangiamo i mandarini e tante cose buone. Poi io dormo al 100%. Anch'io. Da piccolo sempre mia mamma mi diceva non dormire qui, altrimenti prenderai il freddore. Ma la ignoravo e mi ammalavo sempre. Il camino. So che il camino non c'è in tutte le case italiane, soprattutto in città credo non si possa avere, ma io sono cresciuta avendo il camino in casa. E l'inverno mi manca, passerei ore e ore lì davanti. È un'ottima compagnia, oltre un ottimo strumento per cucinare tante cose buone. Chissà, magari un giorno lo avremo anche noi. In Giappone in passato sicuramente lo usavano, ma adesso è rarissimo, tranne che nelle zone più fredde, come per esempio l'isola dell'Hokkaido, dove appunto lì viene ancora usato. Il quinto è kombini. In Giappone esistono dei negozi chiamati kombini, che sono aperti 24 ore e 365 giorni all'anno. Questi posti sono come dei piccoli supermercati con molto cibo pronto. Anche ci sono tanti servizi, come ricevere e spedire facchie Amazon, bancomat, servizio, fotocopie, si possono pagare le bollette, eccetera. Solitamente c'è anche il bagno, si possono trovare ovunque, sia nella città che nei piccoli paesini sperduti. Quando lavoro fino a tardasera, se ho fame, posso andare lì e comprare qualcosa da mangiare, quando già tutti gli altri negozi e ristoranti sono chiusi. Anche se dimentichi qualcosa, all'ultimo secondo puoi andare lì a prenderla. In alcuni combini più grandi si possono trovare anche verdura e carne. In Italia, magari nella città grande, c'è un servizio come questo, ma nei piccoli paesi non l'ho mai visto. Quindi dopo che sono venuto in Italia, ho capito che il nome che gli è stato dato era proprio giusto, perché significa convenience store. Comunque, tra tutti i suoi servizi, per me la principale utilità è quella del bagno. Ovunque posso trovare un combini. E sono felice. Ho bisogno di bagno pulito. Vestiti a prezzo medio e più scelta delle taglie. Questo forse l'abbiamo detto già in altri video, ma i prezzi dei vestiti di medio livello, quindi non brand di lusso e non fast fashion, sono più accessibili, sono prezzi più giusti. E soprattutto c'è più scelta. In Giappone sembra ci siano sempre gli stessi vestiti nei negozi di questo tipo. O meglio, ogni stagione cambiano, ma seguono molto la moda del momento, quindi un po' tutti i negozi hanno gli stessi vestiti. In più, la qualità dei tessuti nella fascia media di prezzo è molto bassa rispetto all'Italia, secondo me. Un altro problema che io ho riscontrato è quello delle taglie. Ovviamente loro hanno taglie più piccole rispetto alla nostra e trovare dei vestiti adatti alla mia fisicità è sempre un po' un problema. Questo vale anche per le scarpe, anche se io ho un 38-39 che per l'Italia è una taglia standard. In Giappone è un pochino fuori taglia per le scarpe femminili. Sì, le trovo ma non di tutti i modelli, e soprattutto le trovo di quei brand sportivi, diciamo un po' più famosi, ma non sempre. Se si ha qualche numero in più è meglio comprarle online oppure acquistarle prima di venire in Giappone. Per l'ultimo, cambiare i soldi. Io dimenticavo questa cosa, ma in Italia se si hanno banconote di taglio grande è scomodo usarle nei negozi. In Giappone la banconota più grande è quella da 10.000 yen. Diciamo come una banconota da 100 euro, anche se il cambio reale è diverso. E se io uso questa banconota ovunque non c'è problema quasi mai. E se ci risolvono loro è comunque posso pagare. In Italia invece capita spesso che se uso una banconota da 50 euro mi dicono non ho resto, quindi non posso usarla. Ma come faccio? Se non ho altri soldi non posso comprare? Se posso usare carta, sì, va bene. Anch'io preferisco così. Ma altrimenti come? Consigliatemi come fare, grazie. Armadi grandi e stanze ampie. Chi ha visto i nostri home tour avrà notato che gli appartamenti in Giappone sono molto piccoli. In realtà anche se si hanno case a più livelli, quindi grandi, comunque hanno stanze più piccole rispetto alla media italiana. Ed anche i soffitti spesso sono più bassi. Essendo già piccole le stanze, anche gli armadi saranno piccoli all'interno. Io sogno un armadio grande, mezzo vuoto tutto per me, soprattutto ordinato. Invece in questi piccoli spazi è complicato sistemare e organizzare. In Giappone spesso ci sono degli armadi già compresi nella struttura della casa, però hanno delle divisioni un po' sbagliate, e quindi è complicato, che ne so, appendere dei giacconi o dei vestiti un po' più lunghi. Sono un po' scomodi. Però credo sia proprio una differenza culturale. Chissà, magari un giorno mi abituerò. Queste sono alcune cose che abbiamo notato in questo mesetto, mesetto e mezzo che siamo qui. Se anche voi avete vissuto all'estero e c'è stato qualcosa che vi è mancato dell'Italia, fatecelo sapere in un commento o viceversa. Ok, se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi a questo canale. Anche seguite i nostri social net, per favore. Grazie mille per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video. Ona! Ho bisogno di un bagno plito!